sabato 14 ottobre ariete con veneri in opposizione dalla bilancia i richiami del cuore saranno forti ma un po' contraddittori il partner si farà desiderare saturno è dalla vostra parte non perdete tempo con persone che non sono sulla vostra lunghezza d'onda toro giove ostile risulta un po' insidioso sul lavoro sarebbe bene programmare con cure attenta valutazione ogni nuova azione o richiesta non agite impulsivamente la mancanza di riflessione potrebbe causarvi qualche noia uomo avvisato gemelli con saturno contro e venere amica in amore troverete la forza per chiarire ciò che non va a costo di voltare pagina e mettere un punto fermo nettuno è avverso potrebbero sorgere dubbi sulla affidabilità del partner non fatevi cogliere da timori infondati cancro nettuno intrigono vi predispone alle attività umanitarie avvertirete forte e chiaro il desiderio di donare aiuto a chi ne ha bisogno giove vi permette di esprimere le vostre doti professionali senza esitazioni alcuna approvazione di un capo leone col sole in bilancia che sorride la luna nel segno avrete belle soddisfazioni amorose raccogliendo ciò che avete seminato fin qui nel tempo se siete single un'intensa attrazione potrebbe coinvolgervi anima e corpo turbandovi nel profondo vergine con nettuno nemico nei pesci potreste innamorarvi di qualcuno non molto adatto a voi non prendete decisioni affrettate prima contate fino a mille giove vi candida a successi prestigiosi saprete trovare soluzioni positive e concrete ai problemi bilancia grazie a venere che oggi inizia a transitare nel vostro cielo nella vita 2 lascerete spazio alla tenerezza e alla comprensione delle esigenze dell'amato con il sole che è in se stile alla luna conoscerete chi saprà intercettare i vostri messaggi romantici scorpione giove l'astro della fortuna in congiunzione promette notevoli possibilità di successo nel lavoro ma anche nelle questioni di cuore dunque osate in amore sogni e progetti si concretizzano il matrimonio se siete in coppia altrimenti felerte intriganti sagittario con marte scontroso le circostanze potrebbero frenare l'espressione del vostro potenziale creativo costringendovi entro limiti poco crediti venere è di nuovo amica se siete soli propizierà l'incontro giusto se avete invece un legame promuoverà l'intesa capricorno a causa di venere ostile potrebbe profilarsi qualche difficoltà nella spera sentimentale il bisogno di essere amati forse non troverà l'appagamento che desiderate mercurio contrario vi farà essere un po più polemici del solito attenzione acquario con venere propizia in bilancia un'impulsiva passionalità vi guiderà e vi spronerà a compiere delle scelte importanti per la vostra vita affettiva mercurio un favorevole trigono faciliterà la riuscita di prove di studio esami viaggi e colloqui di lavoro pesci giove vi farà centrare un importante successo professionale con le vostre sole forze senza l'aiuto di nessuno l'infa per la vostra autostima con marte contro dovrete affrontare questioni lavorative complicate da gestire con saggezza e diplomazia per la vostra autostima